Gli alternativisti. Ma io entro nella Chiesa ma con questa idea, con questa ideologia. E così la sua appartenenza alla Chiesa è parziale. Anche questi hanno un piede fuori dalla Chiesa. Anche per questi la Chiesa non è casa sua, non è propria. E quindi affittano la Chiesa a un certo punto. Dal principio della predicazione evangelica ce n'erano. Pensiamo ai gnostici che l'Apostolo Giovanni bastona tanto forte. Siamo, sì, sì, siamo cattolici ma con queste idee, un'alternativa.